Ehi, ascolta, come ti chiami? Mi chiamo Roosevelt e Roosevelt. E in che località sei dislocato? Sono dislocato a Ficatang. Bene, grazie Roosevelt. Com'è il tempo da quelle parti? Fa caldo. Caldo da morire. Infernale. Ho le mutande che mi vanno a fuoco. Ci potrei cuocere l'uccello a bagnomaria. Non ho capito bene come ti senti. Fuoco addosso, mi sento io. Ma dove sei nato? Sul sole? È un caldo da crepare. È un caldo che si tocca. Io l'ho toccato e scotta. Ho visto certi ometti con le tuniche arancione andare a fuoco. Adesso hai capito che razza di caldo fa? E come diventerà verso sera? Caldo, umido. Il che aiuta con una signora, ma non ti serve a niente nella giungla. Grazie Roosevelt. Eccovi una canzone tutta per voi, intitolata Ragazzi, non c'è scampo, di Marta and Van Delas. Yes! E noi ci siamo capiti. Andiamo...